13 segnali sul nostro volto che rivelano malattie. Anche se non li colleghiamo, molti problemi del nostro organismo possono mandarci dei segnali mediante il volto, motivo per cui dobbiamo imparare a riconoscerli per poter intervenire talvolta, non serve esprimere a parole quanto se la sta passando male il nostro corpo in un preciso momento. Basta che ci si guardi allo specchio e che si faccia attenzione ad alcuni dettagli del nostro volto o alle caratteristiche della nostra pelle per accorgerci in tempo delle possibili malattie che stiamo manifestando. Come si suol dire gli occhi sono lo specchio dell'anima, mentre il volto lo è della nostra salute ed è per questo che diventa anche uno dei migliori indicatori quando qualcosa non va bene nel nostro organismo. 1. Borse e occhiaie scure sotto agli occhi in linea generale, sono caratteristiche acquisite su base genetica. Tuttavia, può succedere che compaiano anche dal giorno alla notte, facendovi sembrare stanchi oppure malati. Fra le loro possibili cause troviamo, mancanza di sonno o nottate in bianco abuso di alcol fumo squilibrio ormonale alimentazione sbagliata 2. Macchie o acne sulla fronte si presenta come una lieve forma di acne e può essere dovuta a determinati problemi digestivi causati dal consumo di cibi grassi. In caso affermativo, la cosa migliore sarà realizzare dei piccoli cambiamenti nelle abitudini alimentari. 3. Naso rosso Se notate di avere il naso più rosso del normale, ricordatevi che è collegato a diversi vasi sanguigni e, nel caso in cui qualcuno di essi non stia funzionando bene, il suo colore tenderà a cambiare in automatico. Rivolgetevi al medico quanto prima per effettuare gli esami corrispondenti. Potrebbe trattarsi di una malattia che richiede delle cure importanti, oppure può essere un'allergia o un semplice raffreddore. 4. Pelle del volto e occhi di colore giallo In questo caso si tratta di un cattivo funzionamento del fegato. Questo si vede compromesso da un accumulo di rifiuti nel vostro organismo e può causare irritazione e altre complicazioni. Rivolgetevi a un medico quanto prima per un controllo di pancreas, fegato, cistifellea, e per scartare malattie come l'epatite, la mononucleosi, ecc. 5. Comparsa inaspettata di nei e voglia E' possibile che, dopo aver trascorso qualche ora esposti al sole, la vostra pelle generi delle macchie. Se vi capita, dovete diminuire l'esposizione e usare regolarmente la protezione solare per la pelle. Nel caso in cui, col passare dei giorni, osserviate dei cambiamenti irregolari nei vostri nei o nelle vostre voglie, sarà meglio che vi rivolgiate ad un medico. 6. Eruzione sul volto A forma di farfalla questa tende a comparire come una macchia rossa e più estesa sul volto e può essere dovuta a diversi fattori, avete ingerito molti dolci state soffrendo di una qualche allergia si è verificata una variazione della temperatura ambientale. Generalmente, questa scompare da sola ma tutto dipenderà anche da altri sintomi, dato che è solita essere relazionata a febbre o dolore in varie articolazioni. 7. Desquamazione della pelle contornante bocca e naso Questi segnali sono indicatori di una mancanza di vitamine come la A, B, C o E Si può verificare una significativa perdita di capelli, le unghie possono risultare fragili ed è possibile riscontrare anche una debolezza generalizzata nel resto del corpo. Come consiglio, cominciate ad apportare delle modifiche alla vostra dieta, aggiungendo elementi che contengono le vitamine mancanti. 8. Eruzione nella zona del triangolo naso-labiale Se si presenta in punti molto precisi, come le labbra o il naso, significa che sicuramente avete un herpes. Non dovete preoccuparvi, poiché è solito guarire per conto proprio. Tuttavia, l'applicazione di un prodotto farmaceutico non è una cattiva idea. 9. Labbra screpolate Se avete le labbra screpolate ed eccessivamente secche, è molto importante che consumiate acqua in abbondanza. Allo stesso modo, il burro di cacao può essere una buona soluzione. In linea generale, questo fattore può essere dovuto a una mancanza di idratazione, esposizione al sole o allergia. 10. Eccesso di peluria sul volto Questa è un'altra delle caratteristiche acquisite a causa della genetica e dunque per eredità familiare. Tuttavia, ciò non esclude che possa trattarsi di un cambiamento ormonale causato dalla sindrome dell'ovaio policistico, siglapcos, derivante dall'inglese policisticovarisindrome. Se questo è il caso, rivolgetevi a un ginecologo per ricevere un trattamento adeguato. 11. Iperpigmentazione del volto Tale segnale tende a manifestarsi nella fase della gravidanza di molte donne. Compare come una specie di macchia nella zona delle guance o del setto nasale. È conosciuta come un tipo di iperpigmentazione chiamata cloasma o melasma. 12. Ciglia e sopracciglia Assottigliate senza ricorrere ad alcuna operazione chirurgica, né cura, all'improvviso Notate che le vostre ciglia e sopracciglia si sono ridotte. Fate attenzione, poiché può darsi che stiate soffrendo di problemi alla tiroide. Per quanto possibile, è conveniente che facciate le analisi del sangue e vi rivolgiate al medico. 13. Acne e sfogo cutaneo Al mento o cambiamento di colore Il mento è direttamente associato agli ormoni. Dunque, fra i fattori che possono favorire la comparsa dell'acne o di uno sfogo cutaneo, troviamo, squilibrio ormonale Mancanza di sonno Stress Cercate di mangiare in modo più salutare aggiungendo delle verdure ai vostri pasti quotidiani e rivedete le vostre abitudini.